ciao a tutti oggi prepareremo la pasta e fagioli il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa gli ingredienti sono fagioli giallessati acqua pomodori piccadilli dato vegetale sale pepe pasta olio carote sedano scalogno rosmarino e pancetta andiamo via alla ricetta andiamo a mettere nel boccale lo scalogno il rosmarino e la pancetta e andiamo a tritare il tutto per 5 secondi a velocità 7 andiamo un po sul fondo andiamo ad aggiungere l'olio e andiamo a insaporire per tre minuti 120 gradi velocità 1 adesso andiamo ad aggiungere la carota e il sedano i pomodorini e andiamo a frullare per 5 secondi a velocità 5 andiamo ad aggiungere l'acqua e i fagioli andiamo a cuocere per 20 minuti 100 gradi 100 gradi velocità 1 adesso andiamo ad aggiungere la pasta il sale il pepe e andiamo a cuocere per il tempo indicato sulla confezione nel nostro caso 12 minuti 100 gradi 100 gradi anti-orario velocità soft la nostra pasta e fagioli è pronta andiamo ad aggiungere la pasta e fagioli grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti